ciao in questo momento sono le 23 e mezza di questo 20 giugno 2024 piacerebbe avere un silenzio esterno e invece si sente la radio del vicino si sente che c'è ancora presenza e questa cosa un po mi dispiace passiamo la giornata in un rumore assordante nella città spesso anche quello che chiamiamo lavoro e desideriamo la tranquillità almeno del silenzio esterno e poi non c'è allora torni nel silenzio interno questo qua ti appartiene nessuno non te lo può togliere bastano qualche parola basta un monologo basta quella tua routine quell'automatismo che ti porta nella pace che tu sei e che con allenamento ripetuto quotidianamente riesci a trovare in pochi minuti in questo caso un minuto e venti dunque a partire da una mancanza di silenzio esterno questa riflessione mi porta al silenzio interno che sempre più è fondamentale entrare in quello spazio incontaminato spazio sacro spazio di non pensamento spazio di non senza parole ma che puoi creare anche parlando facendo qualsiasi cosa che per te è diventato il click diciamo lo scatto che ti porta nella tranquillità dell'essere è sicuramente un grande consolidamento di una routine una disciplina un allenamento a stare e tornare regolarmente in questo silenzio portare il silenzio dentro di te o entrare nel silenzio dentro di te come lo vuoi chiamare lo dicevo ieri ti porta un grande valore aggiunto ti porta guarigione ti porta benessere ti porta ricentratura ti porta equilibrio osmosi quello che vuoi è un po' come tornare a casa per me la casa è quello spazio sacro dove stai bene e non è un luogo fisico non è uno spazio mentale non è uno spazio di un'emozione non è gioia va oltre ogni definizione e si manifesta quando la tua intenzione di stare in questo silenzio si è fatta carne si è manifestata allenata ripetuta quotidianamente per mesi mesi e mesi e anni dunque questo video è un video per portare questa tranquillità questo stare bene che va oltre a quello che hai fatto quello che hai vissuto ma è sapere di avere sempre un modo per andare oltre la quotidianità la quotidiana età che è la tua età anagrafica vai oltre questa età e vai nel stare senza età nel prima nel dopo nel qui penso che dobbiamo andare oltre le definizioni di tempo che ci sono state insegnate e che ci segnano e prendere la vita per quello che è una vita che non ha età che non ha luogo che non ha dunque tempo ma che tutto allo stesso tempo bene questa è la mia preghiera oggi ed è quella che sarà anche domani voglio consolidare questo acquisito e questa capacità a crearmi uno spazio senza spazio senza tempo ok allora aug che questo video ti sia stato proficuo che ti abbia aiutato a rilassarti a trovare serenità trovare questa età serena questo cielo blu dentro di te ti porta a dare meno valore meno peso a quello che accade là fuori nel cielo fisico che spesso per pochi minuti è veramente blu mentre tu puoi essere quando lo vuoi puoi chiamare questo cielo blu un abbraccio ciao